Ammontano a 119 milioni di euro i fondi messi in campo per l'accordo sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Dipartimento della Funzione Pubblica per lo sviluppo della Capacitazione Amministrativa con l'Intelligenza Artificiale nell'ambito dell'evento Open Hub, Abruzzo Generatore di Competenze, che si è svolto all'Aurum di Pescara. Una mattinata di lavori che si è conclusa con l'intervento di Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest'accordo è sicuramente un premio a chi crede nella formazione come leva strategica per guardare con fiducia al futuro del Paese, quindi al futuro del territorio. Sicuramente è un riconoscimento all'Abruzzo, io sono venuto qui esattamente un anno fa per stringere un accordo con la Regione per la creazione di questo hub delle competenze. Quest'anno è stato un anno virtuoso in cui questa iniziativa ha funzionato molto bene e quindi dobbiamo essere capaci di includere. Per cui l'accordo di oggi è un accordo che coinvolge ANCI, UNCEM, la Regione, Formez e quindi tutti quei soggetti che ci possono dare valore aggiunto per una prospettiva che non è più un'opportunità ma è una necessità e cioè quella di dotare le nostre amministrazioni degli strumenti che servono per farla funzionare, quindi per essere aderenti e per essere coerenti alle aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese. Viviamo un'epoca particolarmente complicata, un'epoca che richiede la capacità di continuare a rinnovarci, di vivere il cambiamento come un'opportunità e quindi accordi come questo sono accordi fondamentali per dare l'infa alla nostra organizzazione. L'Abruzzo è una Regione che ha dimostrato in questi anni di essere molto attenta al funzionamento della macchina statale, una Regione virtuosa, le eccellenze vanno coltivate e poi vanno trasposte nelle altre realtà. Con l'Abruzzo abbiamo un percorso che è avviato insieme già da tempo e devo dire che la riconferma di Marco Marsilio come Presidente della Regione per me è un'ottima notizia perché significa avere l'opportunità di continuare a dialogare con chi parla la stessa lingua. Presidente Marsilio, cosa cambierà concretamente con questo accordo? Rafforziamo la capacità amministrativa delle amministrazioni periferiche, quelle che hanno forti difficoltà a poter completare progetti, programmi, quindi anche in qualche maniera competere con le altre amministrazioni nell'accesso ai fondi. Sviluppiamo quindi una collaborazione forte, noi siamo orgogliosi di essere diventati capofila di un progetto che mette insieme lo Stato attraverso il Ministero e altri enti, gli enti di formazione come Formez e tutte le realtà del territorio per cercare di fare squadra e fare sistema.